Io adesso devo dire la parola, però ha già parlato il Presidente, un applauso al Presidente. Questo è il mio quinto anno qui dentro, l'anno scorso c'era stato un momento un po' triste, avevo annunciato il mio addio e bene sono ancora qui, primo anno di Presidenza Antoniazzi, sono ancora qui, valuterò la mia uscita quando il Presidente presenterà il progetto per la costruzione di un muro che divide il gazzolo da piatucco e io deciderò di uscire perché vorrei che il gazzolo e il piatucco fosse riuscire, cioè unite, non ci fosse divisione, siamo tutti uguali, tutti gli stessi, non importa se vi cardone o vi piene. Che dire, grazie, io mi trovo in questo ambiente splendido in cui posso esprimermi liberamente, posso lavorare tranquillamente, è bellissimo, i miei allievi stanno crescendo di numero ovviamente, sono felicissimo perché quando sono partito avevo una allieva, una sola. Eccola! Quante cose! Invece adesso sono uno dei vecchi, diciamo così, della scuola e chiaramente qui accanto il segretario cola, un applauso per fuori. Niente, grazie, è stato bellissimo, mi è stato un piacere essere qui. Un applauso a tutti i ragazzi che si sono esibiti prima, tutti uno per uno, bravissimi. Lo dico sempre, voi siete il pubblico, siete all'alberato della barricata, venite qui sopra, fate un pezzo di fronte a tutti voi e poi ne riparliamo, quindi bravissimi, hanno suonato bellissimo, molto nuovo. Bene, adesso che dire, roccheggiamo, facciamo l'ultimo pezzo e l'ultimo posso dire, sono migliorato Stein, alla prossima, grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.